Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it Buongiorno Valentin, benvenuto a Bologna, welcome in Bologna Prima domanda di Repubblica e Mille Cuori Rosso Blu, puoi descriverti come giocatore? Buongiorno a tutti, sono il difendente centrale, questa è la mia posizione nel campo vorrei pensare a me come un giocatore intelligente che piace leggere il gioco vengo qui da Bologna, un paese con molta storia nel fútbol quindi voglio mostrare a tutti gli italiani che abbiamo ancora buoni giocatori di fútbol e continuare ad aumentare e aiutare il team come poter. No, non penso che c'è un giocatore particolare che ho guardato e che è il mio idolo ma ovviamente guardando le top europee, i top giocatori in ogni team posso imparare molto da tutti e nel passato, quando ho giocato con certi difendenti centrale ho imparato molto da loro e ora penso che in Bologna questo è un passo in avanti con migliori giocatori che ho giocato prima quindi penso che c'è molto da imparare La Gazzetta dello Sport un difensore modello che gioca oggi in Italia e oltre al calcio, passioni, hobby, interessi particolari ovviamente credo che c'è un giocatore in particolare che ho guardato questo è Matias Delighnau perché è un giocatore, è un giocatore in un giocatore per fare il mondo e anche se c'è una differenza tra noi penso che posso imparare molto posso guardare il giocatore e questo è molto motivativo per un giocatore per vedere che i sogni sono reali e con il lavoro puoi arrivare a dove vuoi essere la maggior parte del tempo sono in allenamento sono sempre con il football quindi quando ho il tempo di restare e di rilassare mi piace spendere con i miei amici o restare, guardare una tv e questo è tutto come ho cominciato penso che mi piace dire che sono un giocatore che mi piace leggere il gioco e pensare prima che la situazione succedere magari la mia migliora notte è che non sono così esplosivo nei primi metri bisogna essere più vele ma penso che c'è qualcosa che posso lavorare e migliorare e qui con la qualità della base gli equipamenti e le persone di coach posso fare questo ovviamente anche prima che ero venuto qui ho visto la Serie A perché questa è una delle top leggi del mondo quindi ho saputo che sia fisico sia molto tattico ma penso che sono preparato per questo penso ovviamente ho bisogno di integrare ma sono sicuro che ho dovuto fare tutto il mio miglioramento per questa adaptazione per essere più vele penso che ho bisogno e ho bisogno da i miei amici e i miei amici sono molto felice sono felice e sono felice e con loro penso che non sarà un problema per me Passiamo a tutto mercato web e tutto Bologna web quali aspettative hai da questa esperienza cosa ti ha spinto a scegliere Bologna? Bologna è penso che è il miglioramento perché hanno molti giocatori che vogliono sviluppare ora sono uno di loro tutto è successo ma non c'era un secondo e ho pensato che ho dovuto questa offer ho voglio ringraziare i miei precedenti club perché erano molto bene con questa offer mi ha detto e non c'era cosa che mi ha detto da venire a tutti i miei scutti che mi hanno dato questa possibilità perché per me la cosa più importante è rimanere migliorare e ottenere la mia posizione perché c'è una possibilità e con il lavoro voglio avere la possibilità di giocare in questa squadra sono molto felice di essere qui e darò il mio best per aiutare la squadra hai giocato sia in una difesa 3 che in una linea 4 con quale delle due ti senti più a tuo agio? sì la mia vita ho giocato con una 4 quindi potremmo più in ultimi mesi tessica ho giocato con una 3 e mi senti confortabile ma credo che sia un'avvento in posizioni in formazioni e questo è per la squadra se voglio se vogliono giocare con una 4 se vogliono giocare con una 3 sono bene e credo che sia bene che posso giocare con una borsa in chiusura il Corriere della Sera quando è arrivata la proposta del Bologna e quante altre offerte avevi ricevuto in questo mercato? sì le cose erano molto veloce erano due o tre giorni prima che la finestra si chiama l'interno l'interno quindi è stata una molto veloce l'ultima decisione ma credo che le migliori cose in vita succedono in questo modo con il shock e nei ultimi secondi quindi ho avuto questa possibilità e ora sono qui e sono molto felice grazie grazie tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it a 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